La prima prova della maturità 2017 che ha visto circa 11.000 studenti abruzzesi alle prese con l'ultimo atto prima del percorso universitario ha come di consueto smentito le previsioni della vigilia riguardo le tracce. Dunque niente 150esimo anniversario della nascita di Luigi Pirandello o i 25 anni dalla strage di Capaci. Per i temi di attualità le previsioni spaziavano dal testamento biologico alla Brexit e ai migranti. Niente di tutto questo. Dopo l'errore grammaticale del ministero finalmente stamattina disvelate le prove a cui si sono sottoposti i maturandi. La prima traccia, quella per la tipologia A, l'analisi del testo ha proposto un autore insolito, Giorgio Caproni, poeta e critico livornese del 900, poco o per nulla studiato. Bellissima la poesia scelta, versicoli quasi ecologici contenuta nella raccolta res a missa. L'autore descrive l'azione negativa dell'uomo nei confronti della natura, mare, alberi, vento e animali e accusa chi trae profitto dall'uccisione delle bestie. Per il tema storico spazia il cosiddetto miracolo italiano con gli studenti che sono stati invitati a riflettere sull'Italia del dopoguerra e gli anni del boom economico tra 50 e 60 con citazioni da Piero Bevilacqua, da lezioni sull'Italia repubblicana e da Paul Ginzburg da Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Nuove tecnologie e lavoro, la traccia del saggio breve in ambito socio-economico. La riflessione parte dal testo Allarme ONU, i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano di Enrico Marro pubblicato sul Sole 24 ore. La natura tra minaccia e idilio in arte e letteratura è invece la traccia uscita per il saggio breve artistico letterario. Tra i materiali forniti i quadri di William Turner e Pellizza da Volpedo. Tra gli allegati anche poesie di Pascoli, di Montale e di Leopardi è un testo di Ugo Foscolo dalle ultime lettere di Jacopo Ortis. Questione terremoti, catastrofi naturali e appunto ricostruzione è stato l'unico a rispettare parzialmente i pronostici che indicavano tra le tracce possibili anche i terremoti. Infatti per l'ambito storico-politico l'argomento è disastri e ricostruzione. Anche in questo caso le commissioni hanno proposto una serie di articoli da cui partire per trattare l'argomento. Uno scritto di Machiavelli, da Il Principe, un articolo di Giorgio Boatti dalla Repubblica e uno di Alvaro Gonzales Palacios, da Il Sole 24 Ore. Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro è il titolo del saggio breve in ambito scientifico. Il progresso con l'articolo di Edoardo Boncinelli per migliorarci serve una mutazione pubblicato sul Corriere della Sera al centro del tema di attualità. Ai maturandi è stato chiesto, prendendo spunto dall'estratto di Boncinelli, di analizzare il progresso nella società attuale in tutte le sue forme. I ragazzi hanno dovuto scegliere un argomento tra le cinque tracce e hanno avuto sei ore per svolgere il tema. L'analisi di un testo letterario oppure il saggio breve o articolo di giornale, il tema storico o il tema di attualità. Qualche ora per riprendere fiato, poi il secondo appuntamento. Domani di nuovo alle 8.30. Il secondo scritto è diverso a seconda degli indirizzi. Latino per i licei classici, matematica per gli scientifici, lingua straniera per i licei linguistici e così via. La durata è dunque per tutti di sei ore, tranne che per i licei musicali, coreotici e artistici, dove la prova si svolge in due o più giorni. Si chiudono le prove scritte lunedì 29 giugno con il cosiddetto quizzone, diverso per ciascuna scuola. Infine, l'ultimo step prima delle vacanze, il colloquio orale che si concluderà, come sempre, entro la prima metà di luglio.